Qualcuno lo ha già rinominato il patto dell'agriturismo ed effettivamente proprio in una struttura di queste che i big del Partito Democratico hanno deposto le ultime asce di guerra. Riunitisi in una località al momento sconosciuta in provincia di Catanzaro, i Democrat hanno deciso di puntare tutto sull'unità e sulla piena e totale fiducia in Mario Oliverio. Presenti tutti i consiglieri regionali del PD, il governatore, molti parlamentari, il sottosegretario e la presidenza del Consiglio, Marco Minniti, e quello del Consiglio regionale, Nicola Irto. Secondo la sintesi dell'incontro, fatta dal segretario regionale Ernesto Magorno, è stato un summit per discutere anche del contributo che deve dare il Partito Democratico calabrese all'azione di governo del presidente Oliverio e per affrontare i problemi da risolvere. Tutto si è svolto in un clima sereno e propositivo, ha assicurato Magorno, ma sarebbe forse più corretto dire che i dissidenti non erano assenti ma hanno scelto la via del silenzio. Così l'agitato Carlo Guccione, secondo quanto riportato dalla nostra testata online, la cnews24.it, sarebbe andato via dopo neanche mezz'ora dall'inizio dei lavori, mentre gli altri dissidenti, come Ciconte e Scalzo, hanno preferito non prendere la parola.